Noi spieghiamo ai nostri studenti come comprare al minimo di questi valori con intorno al 15%, tuttavia se si acquista in blocco dalle banche, oggi le banche sono disponibili a vendere anche al 2-3% del valore commerciale attuale. Però bisogna comprare grandi quantità. Lo abbiamo dimostrato, abbiamo dei casi effettivi. E in ragione della nostra storia di investitori, sia mia che di Sam e del tipo di soldi che abbiamo portato sinora, e di fare dei contatti che abbiamo sviluppato nella nostra professione, abbiamo la possibilità oggi di acquistare facilmente il volume. E hai stato in contatto con alcuni di queste persone? Sì, io stesso ho avuto contatti diretti con alcune di queste persone e stiamo già trattando alcune cose. Tutte le informazioni sono molto trasparente, molto dirette. Ci sono doppi specchi o fumo. È tutto molto semplice. Molto semplice. Volevo chiedere una cosa. Come esposa questo tipo di attività che se non ho capito male fino a un po' di tempo fa, o comunque continua a farlo, fa degli investimenti di tipo diretto, sfruttando quelle che sono le sue expertise, quindi il discorso della valutazione. Se non ho capito male, adesso sostanzialmente sta insegnando quella che è la sua expertise. Non ti faccio più io la valutazione, ma ti insegno come valutare correttamente un immobile, se non ho capito male. Questo tipo di attività com'è che viene coniugata con il web? Nel senso che sul web vengono fatte le attività didattiche, quindi la formazione, oppure c'è la compravendita dell'immobile, piuttosto che la commercializzazione, eccetera. Ok. Quindi mi sembra una cosa che ha molti aspetti, molte facce, no? Ok. Questa cosa è che fase di l'investimento attività è dovuta per il web? È solo il training e l'evaluation? Oltre anche il vendere, il vendere e il vendere? Il vendere e il vendere? Il vendere è tutto. No. 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 Non. No. No. No esist Kam, no fun me chacere. No dolore. Marrone. Partico. NoNING. quindi il suo sistema comprende tutte le fasi tutte le fasi sono studiate in modo di poter essere realizzate in remoto così che anche l'investitore poi lui stesso valuti perché alla fine noi possiamo dire che l'offerta è buona ma poi alla fine è la persona stessa che deve metterci del suo e deve far funzionare il sistema quindi tutta la fase di ricerca, negoziazione, acquisizione, marketing a un successivo acquirente, vendita e chiusura che sarebbe quindi proprio l'altro esperimento dell'altro proprietà viene eseguita e coordinata via web I have a nickname I have a nickname because in my real estate investing I literally work from home and essentially in my pajamas so yes we do our system virtual REO investing which is the bank owned property using the combination of the valuation training marketing for property and then using the web to identify buyers for properties we've actually helped hundreds of students who have gotten our system to do exactly what you're at Sì, quindi il loro sistema che si chiama virtual REO dove REO sta per proprietà di proprietà delle banche è un sistema concepito per poter avere tutto accesso direttamente ai database delle banche americane quindi vedere nel momento stesso in cui una proprietà viene messa in vendita dove, che prezzo, la banca è disposta a venderla e quelle che sono anche le caratteristiche di massimo proprietà quindi i suoi studenti hanno l'aspezione di questo sistema per localizzare la proprietà stabilire che ho l'è l'offerta migliore da fare alla banca o come ribassarla e dopodiché già pensare a come rivenderla perché loro l'acquisiscono dalla banca al prezzo migliore possibile e la rivendono o a qualcuno che può ne fare strutturazione mentre sul mercato oppure anche una cliente finale questo appunto con centinaia di studenti contemporaneamente perché il sistema di fatto è scalabile in qualunque posizione degli Stati Uniti verso qualunque altra posizione vi spiego quindi è un mercato borsistico no, mi viene da sorridere perché se io fossi una banca americana andrei a fare lo studente della marca a questo punto anziché vendere a due vendo qualcosa di più no, in realtà è un sistema che fa comodo tutti perché le banche devono monetizzare devono liquidare quindi il sistema si compone sia di training audio sia di training video di testi che si possono sfericare non c'è nulla di stampato tutto in formato elettronico quindi da qualunque parte che si può utilizzare and then we do additional training because we'll do live teleseminars and webinars using the net to actually teach our students in real time in più forniamo anche supporto in tempo reale anche su opportunità di investimento agli studenti o agli investitori potenziali usando web di nuovo quindi dimostrazioni live chiamate live eccetera su opportunità potenziale most recently we took our coaching students on a cruise as well si, un mese fa hanno portato i loro studenti l'e-top su una cruciera nei Caraibi and we actually while we were on the ship we used Skype and the internet to research deals contact the agent and make offers mentre erano sulla nave diretti verso una SAO hanno usato Skype e la commissione internet per trovare le proprietà su cui investire e contattare i referenti delle banche e già attivare la trattativa e fare delle proposte so when we got back to shore three of our students had either voicemail email and one student actually talked to an agent on the Monday when we got back to shore quindi il giorno stesso che sono tornati al porto già avevano delle risposte delle proposte da parte dello interattore e uno in particolare già parlato direttamente per giorno stesso con la gente che lo avendo so we just love teaching mi piace insegnare ok allora direi prendo un minuto per chiudere l'intervento intanto vorrei ringraziare prendo un minuto proprio per chiudere l'intervento e per dire anche come operiamo perché tra le altre cose oggi posso dare la comunicazione ufficiale che sono anche un imprenditore a stelle strisce insieme a Roberto abbiamo quindi fondato la società molti di voi già lo sapevano e anche la nostra società di formazione negli Stati Uniti d'America il concetto che noi richiamo è quello del network quindi il nostro obiettivo insieme a Roberto è quello di integrare le competenze essere un punto di riferimento master per l'Europa e di applicare nel mondo reale il concetto del network quindi come avete ascoltato la storia di Sam e Mark che noi la stiamo replicando con la nostra bandiera italiana io e Roberto io quest'estate sarò due mesi negli Stati Uniti d'America e provvederò nei prossimi giorni a fare i miei vestimenti perché credo che quando si fa qualcosa bisogna metterci le parole e i fatti quindi ciò che trasferisco è perché lo faccio su Principato di Monaco Sabrina immediatamente visto che facciamo le nostre cose già ci basta poco per intenderci è il nostro partner su Principato di Monaco alla Costa Azzurra quindi con questo chiudo dicendo che per noi il concetto del network è quello fondamentale e speriamo che oggi possa essere visto che è il primo momento loro qui in Europa che sia il mattone di qualcosa che possa diventare molto molto le fondamenta mi è venuto in mente il mattone perché ho visto recentemente un video molto bello di un film di cui non ricordo il titolo di questo maestro che faceva vedere questo mattone e diceva vedete è solo un mattone però ha delle grandi ambizioni che potrebbe diventare e fa vedere cattedrali fa vedere delle cose bellissime quindi ecco perché mi è venuto in mente il mattone bene direi che possiamo mangiare ancora grazie a tutti